Utilizzava il suo fascino per ammaliare gli anziani e derubarli, ma grazie ad una segnalazione di una delle sue vittime, una donna di 44 anni è stata scoperta dai carbinieri di Fano e denunciata in stato di libertà. Il tutto è iniziato quando un 85enne si è recato disperato in caserma, raccontando di essere stato avvicinato da una signora amore e prosperosa che lo chiamava addirittura per nome. Presentandosi come la figlia di una persona lui conosciuta, lo aveva invitato a salire in macchina per fargli vedere una casa che avrebbe voluto acquistare. L'anziano, seppur dubbioso, ha accettato. Inizialmente lei parlava di fatti e persone di comune conoscenza, ma ad un certo punto ha cambiato atteggiamento. La sua voce si è fatta a sua dente, la posa provocante e il corpo, già svestito, è stato messo in bella mostra. Con Garbo e allo stesso tempo determinazione si è divincolato dall'abbraccio soffocante e la pregata di raccompagnarlo al bar dove prima stava aspettando sua moglie. Così è successo, ma una volta sceso dall'auto l'amara sorpresa. Quel bellissimo e vistoso orologio d'oro che aveva al polso non c'era più. Dall'euforia dell'esperienza vissuta da raccontare agli amici al bar, si è passato immediatamente allo sconforto per l'oggetto tanto caro sottratto e soprattutto per un comportamento tanto ingenuo. Raccolta la vicenda, i carabinieri si sono messi immediatamente alla sua ricerca. Il giorno successivo una pattuglia ha notato una donna uscire di corsa da un negozio fanese di generi alimentari. Dietro la proprietaria del negozio che la inseguiva urlando. Vista la scena, percependo che stava per salire su una BMW X1 bianca, guidata da un uomo che le stava andando incontro, i militari sono piombati addosso al mezzo e hanno bloccato i due. Lei nel frattempo aveva tentato di gettare poco lontano un portafogli che si scoprirà poi esser stato rubato pochi secondi prima dalla borsa dell'esercente. Con sorpresa, i militari hanno poi visto all'interno dell'auto una bambina di appena 5 anni complice inconsapevole dei genitori. Si tratta di due italiani di etnia Rom provenienti dal Veneto, di fatto senza fissa dimora, con un lungo curriculum criminale alle spalle per reati contro il patrimonio. Condotti in caserma, la 44 anni è stata riconosciuta dall'anziano raggirato e denunciata per il complice. Invece è stata proposta all'autorità di pubblica sicurezza la misura di prevenzione del rimpatrio, con foglio di via obbligatorio. Temendo che fatti simili, spesso per vergogno o pudore, non vengano denunciati, la Procura della Repubblica di Pesero ha autorizzato la pubblicazione della foto. Eventuali riconoscimenti potranno essere segnalati in qualsiasi caserma dei carabinieri.